Musica Che fare a questo punto? Faccio farmi un po' di reclame, approfitto, riedi senza capo e ne coda, la pagina del mio sito sul quale io da tre anni e mezzo, anche più, quasi quattro, vado lamentandomi di essere vittima di attacchi hacker, ma no occasionali. Proprio attacchi hacker giornalieri un controllo di 24 ore su 24 correlativo disturbo e incomprensione di quanto accade e incomprensione anche degli altri relativa alla mia personalità. Qua allora dobbiamo dire che anche quelli del giornale dei Liedi sono tutti mati, oppure che c'è effettivamente questa condizione anomala in provincia dei Liedi della presenza di individui che fanno hackeraggio, che manipolano siti, che alterano i contenuti, che tagliano pagine, che eliminano video da Youtube, insomma la fanno da padroni, che si introducono addirittura sulle pagine della pubblicità, sostituendo i codici della pubblicità, oppure addirittura alterando le password di Google, per esempio, di AdSense. Io non so che dire, ecco riporto che il giornale dei Liedi ha sospeso la pubblicazione momentaneamente. Questa è la pubblicità di QTSS Questa è la pubblicità di QTSS Grazie a tutti.